prestazione un finale in cui è successo di tutto l'anno visto che non pagava tutto quello che gli era rimasto nel fatto togliere politici togliere se gli feci la di più che gli feci togliere l'affiliazione con tramite coni al jack per gli sport quando a te il responsabile e gli dissi vedi che questo qua non paga le tessere infatti non le pagava gliel'ho fatto togliere ma che coglione se tu fai un torto a uno che poi sai i tuoi segreti sei la testa di cazzo sei pure poi figurati io non veniva a scoppiare subito dopo un mese tutte queste cose era il mio compito le ricchi erano i tesserati che voglia di voler ricca signore e signori stiamo per annunciare i numeri vincenti di oggi se avete un biglietto non perdete d'occhio il maxi schermo